Rispetto alle questioni politiche, oggi si vota per la vicepresidenza delle assemblee e ci sono quattro posti per le opposizioni. Ci sono tre opposizioni, 5 Stelle, PD e Centrosinistra, noi. Cosa hanno fatto PD e 5 Stelle? Hanno fatto l'accordo per tagliarci fuori. Pensate che quando nel 2013 fecero una cosa simile noi demmo i voti a Di Maio perché i 5 Stelle potessero esprimere un vicepresidente, perché è un principio di buona condotta parlamentare, PD e 5 Stelle con la loro arroganza hanno scelto di tenerci fuori. E noi resteremo fuori dall'aula e porteremo il tema al Presidente della Repubblica.